Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi, venerdì, inizia ufficialmente la prima Weekend League di FC25 e con questo video voglio darvi tutta una serie di consigli che secondo me possono aiutarvi a gestire al meglio questa competizione e cercare di massimizzare il vostro numero di vittorie, premesso che ovviamente la cosa fondamentale sta nella vostra abilità, nel capire gli errori, insomma il vostro livello di gioco, questo senza dubbio. Eccoci sulla schermata di anteprima delle finali Champions, visto che ovviamente quando sto registrando questo video la VL non è ancora iniziata e sappiamo che quest'anno il format è cambiato, si è passati dalle 20 partite dell'anno scorso alle 15 di quest'anno. Una Weekend League inoltre che va a premiare molto di più quelli che sono i risultati degni di nota, ma comunque già a partire ad esempio da un livello 4 che sono comunque 10 vittorie, possiamo andarci a portare a casa un pacchetto eroi base senza overall, invece dal livello 5 un pacchetto con overall eroe massimo 87, per non parlare poi della terra d'elite, ovvero la divisione rango 1. E qui in questo caso ci andiamo a portare a casa addirittura un pacchetto con a base, ovviamente tutti questi perk non scambiabili altrimenti sarebbe un disastro. Per cui diciamo che secondo me tutto questo clima va un po' a peggiorare la competitività della competizione che quindi sarà notevolmente traiardata dal più dell'utenza e inoltre purtroppo questo come vi ho già detto anche in altra sede andrà molto a incidere su quello che è il fenomeno delle Weekend League giocate da pro player. Anzi sono curioso di sentire la vostra nei commenti, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa piaga perché per me è una piaga che purtroppo si è diffusa sempre più a partire dall'anno scorso visto che le Weekend League duravano fino a mercoledì e c'era la possibilità di poterne giocare veramente tante per chi era bravo. Ma comunque questo a mio avviso quest'anno col numero di partite ridotto avrà comunque luogo anche se la Weekend League terminerà di lunedì. Quindi incrociamo le dita e speriamo di no perché altrimenti l'esperienza di gioco di tutti viene rovinata tantissimo. Veniamo però a quelli che sono i miei consigli per cercare di affrontare al meglio questa competizione. La prima regola fondamentale che va conosciuta è quella del matchmaking. Quest'anno è stato reso noto il funzionamento del matchmaking che come vi dicevo negli anni passati che però non avevamo mai avuto come riscontro ufficiale sarà basato sulla forma. La forma che cosa è? Non è altro che un punteggio che va a determinare quello che è il vostro stato di forma appunto. Per cui ipotizziamo che noi magari andiamo a disputare le prime tre partite vincendo le prime due perdendo la terza. Ogni vittoria ci darà un più uno di forma mentre la sconfitta un meno uno. Quindi al termine delle tre partite avremo due vittorie una sconfitta e una forma di uno. Al contrario la forma non può essere negativa ma il limite minimo è zero. Per cui se partiamo con due sconfitte e poi vinciamo la terza siamo 1-2 ma comunque abbiamo uno di forma. E quindi potenzialmente il matchmaking cercherà di andarci a matchare quelli che sono avversari più o meno che hanno il nostro stato di forma ci viene detto. Occhio però perché ovviamente possono capitare anche cose strane. Della serie magari vincete la prima poi ne perdete 5 di fila per cui siete 1-5 con 6 disputate. La vostra forma però ammonterà comunque a zero perché negativa non può essere. E a quel punto magari potete beccare anche uno che sta 2-0, 3-0 in streak perché non c'è un grosso dislivello. Oppure magari voi avete fatto le prime 5 sconfitte, la forma non può andare negativa, poi ne vincete 6. Nonostante siete 6-5 avete una forma di 6 e potete beccare anche chi sta 6-0, 7-0, 7-1. Quindi insomma è un qualcosa a cui stare molto attenti come arrivano le vostre vittorie e le vostre sconfitte. E altra cosa fondamentale da sapere è che in caso di quit vostro ma anche chiaramente dell'avversario ma nei panni dell'avversario perché a voi la vittoria viene contata, non vi viene contato nella forma. Quindi che cosa significa? Che se voi andate a fare magari 2 vittorie di fila poi beccate 6 sconfitte e quittate la forma vostra non è scesa a zero, rimane a 2. Quindi magari vi continuerà a matchare gente che sta 2-0, 3-1, 4-2 eccetera. Quindi il consiglio che io vi do è quello di ricorrere al quit solamente quando siete magari tremendamente frustati, quando vedete che non c'è proprio gara all'interno della partita ma altrimenti magari provatevela a giocare. Sia per questo motivo qui che appunto vi facilita poi ad avere una forma e un matchmaking più coerente a quello che è il vostro risultato ma soprattutto anche perché magari quando beccate uno bravo non dovete arrendervi subito, magari vi può aiutare quella partita a capire lui che cosa fa, cosa potete migliorare voi eccetera. Quindi occhio a quelli che sono i quit per me da evitare e da gestire quanto meno bene senza strafare. Per quanto riguarda un altro consiglio fondamentale è quello della gestione delle partite. Gestione delle partite che secondo me quest'anno è resa in maniera proprio perfetta con queste 15 partite che ci saranno. Io credo che la divisione più sensata sia 5 partite al venerdì, 5 partite al sabato e 5 partite alla domenica. Se volete fare qualche partita in meno al venerdì ci sta senza però andare a caricare poi troppo su un solo giorno. Quindi magari se fate 4 poi magari aggiungete sulla domenica che è l'ultimo. Se fate 3 fate invece 3, 6, 6 e ve la portate a casa così. In maniera tale che avendo una distribuzione equa delle partite in teoria non dovreste andarvi ad incappare soprattutto al venerdì se ne fate troppe in quella che è una fascia di giocatori che magari è troppo alta per il vostro livello perché chiaramente il venerdì mattina l'utenza che fa la weekend league è ridotta magari beccate pro player, streamer che stanno lì a fare il contenuto e non c'è tutta quella fascia di casual player, i vari studenti, gente che va al lavoro eccetera che quindi possono livellare un po' abbassare il livello della competizione. Quindi dividete bene le vostre partite, al venerdì cercate di evitare di fare dei tironi dritti a meno che non siete molto molto bravi e non volete cimentarvi in queste cose e piuttosto cercate di fare più partite alla domenica che l'ultimo giorno quando magari tra venerdì e sabato quelli che sono un po' più accaniti tra virgolette l'hanno già finita. Altro consiglio molto importante che mi sento di darvi è quello assolutamente delle fasce orarie. Adesso è chiaro che la weekend league non può diventare un'ossessione quindi io non è che vi sto dicendo che la weekend league la dovete giocare solo in determinati orari assolutamente no, anche perché poi voi sapete qual è il vostro orario di gioco migliore nel senso che avete un gameplay più pulito perché magari a casa vostra non c'è nessuno che vi scarica i film o se guarda Netflix perché magari sapete che in quel momento lì la vostra banda è più leggera e quindi avete un gameplay migliore. Quello che io però mi sento di dirvi di evitare soprattutto in questa prima parte di gioco è di evitare il momento in cui si fanno le fatidiche ore 19 per cui vengono rilasciate di solito le nuove promo, magari le nuove SBC eccetera. Avete visto come nelle ultime settimane si sia scoperto che c'è questa coda tipo Ticket One che ci ferma all'ingresso del gioco e quindi non vorrei che poi tutto quello va a destabilizzare il server ulteriormente e magari vi ritrovate una partita crashata indesiderata che non volevate. Per quanto riguarda invece il gameplay, anche qui un consiglio che io mi sento incredibilmente di darvi è quello di non farvi prendere dal nervoso e dalla foca di voler recuperare subito un eventuale risultato perché io sono il primo che magari quando perdo poi dopo voglio subito rigiocare perché voglio vincere e annullare quella che è stata la sconfitta precedente mentalmente però spesso e volentieri magari giochiamo presi dal nervosismo presi da mille cose e quindi ci ritroviamo in realtà a fare peggio perché giochiamo dritti per dritti, perché vogliamo fare subito le cose di corsa in un gioco quest'anno che andare troppo di corsa non lo permette perché è vero gli speed boost però di solito questi arrivano dopo aver isolato l'avversario in uno contro uno e quindi poi si va a battere ma non è che si fanno doppi passi a dritto come l'anno scorso che era molto più dritto friendly il videogioco quindi ragazzi per questo video è tutto come al solito fatemi sapere nei commenti se sapevate questi piccoli accorgimenti se li metterete in pratica io vi auguro un grande in bocca al lupo per la prima WL e vi ricordo che sono live tutti i genitori sulla piattaforma Viola un saluto ai vostri Beroni e a presto ciao